Vedremo ora come salvare i nostri progetti, aprirli e modificarli nei nostri archivi. Per poter salvare o caricare gli ordini già salvati è necessario fare il login. Selezioniamo la stanza. Clicchiamo sul logo Inda. Scegliamo la collezione. Il modello. Voglio inserire una compo pronta. In questo caso, è sufficiente inserire le finiture del frontale e della struttura tralasciando il resto e passare subito al configuratore. Inseriamo ora una compo pronta con specchio e lampada. Posizioniamo la composizione al centro. Nella finestra di configurazione, a fianco del logo Inda, è ora possibile assegnare un nome al progetto appena creato. Una volta attribuito un nome al progetto, è possibile salvarlo, cliccando sul dischetto in alto a destra. Con l'operazione di salvataggio viene creato un numero di progetto. Questo identifica il nostro progetto in modo univoco e può essere utilizzato per condividerlo con altri utenti o con il servizio clienti Inda. Cambia anche lo stato dell'ordine, evidenziato dal pallino arancione. Una volta salvato il mio progetto posso chiudere il configuratore cliccando Logout sul tasto in alto a destra dello schermo. Siamo tornati alla schermata iniziale. In un secondo momento potrò caricare l'ordine che ho creato in precedenza, e per farlo dovrò entrare con le mie credenziali. Lo posso fare dallo stesso dispositivo, computer o tablet, oppure da qualsiasi altra postazione. Per caricare un progetto creato da noi in precedenza, clicchiamo su Carica progetto. Comparirà la videata con la lista dei progetti da me caricati in precedenza. L'elenco riporta numero d'ordine, stato, data di inserimento. Con i tre tasti a destra dello schermo potrò aprire il progetto, chiuderlo o archiviarlo. Ora apriamo il progetto salvato. A questo punto posso duplicare il progetto per modificarlo cambiando le varianti di finitura, il tipo di lavabo, oppure inserendo altri elementi. Per questo rimandiamo alla video lezione dedicata alla modifica delle varianti. Ora vediamo come duplicare il progetto per modificarlo. Questo mi permette di conservare il progetto originale e creare una proposta alternativa partendo da questo. Clicchiamo sul tasto nella barra superiore, Duplica progetto. Poi clicchiamo sulla cartella Apri progetto. Qui comparirà la lista dei progetti contenente il progetto originale e il suo duplicato. Potrò ora applicare le varianti che desidero salvare, ad esempio, la stessa composizione in laccato opaco anziché in finitura legno. Alla fine ricordiamo di salvare il progetto modificato. Alla fine, il progetto inserendo la stessa composizione in l'imposizione in l'imposizione in l'imposizione in l'imposizione.